Nel corso della mattina odierna i militari della stazione carabinieri di Bosco Reale, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica, hanno proceduto all'arresto di quattro persone gravemente indiziate in ordine a reati di usura e tentata estorsione. L'attività d'indagine condotta dai carabinieri coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata è scaturita dalla denuncia presentata da due vittime che nel 2013, per far fronte rispettivamente a spese necessarie per il pagamento di un premio assicurativo di 2.500 euro e di alcune scadenze per l'importo di 500 euro, avevano chiesto un prestito ad una persona, pattuendone nella ristituzione tramite il pagamento di rate settimanali da 250 euro l'una più ulteriori d'azione della stessa entità in caso di mancato o ritardato pagamento delle rate dovute. Una volta entrate nella tipica spirale del prestito ad usura, le vittime si erano ritrovate a versare all'autore del prestito fino a febbraio del 2022, rispettivamente alla somma complessiva di 82.096 mila euro, con la pretesa di ulteriori d'azione a copertura degli interessi maturati per i ritardati pagamenti. Le indagini, iniziate nel mese di gennaio 2022 e proseguite per circa due mesi, hanno permesso di documentare le continue e gravi minacce esercitate nei confronti delle vittime da parte della persona con cui era stato originariamente contratto il debito, che risultava essere coadiuvata da altre tre persone, tutte partecipanti a recupire il lecito delle somme di denaro. Ulteriori riscontri sulle presunte condotte illecite venivano ottenuti mediante l'esecuzione in fase investigativa di perquisizioni domiciliari che consentivano di rinvenire e sequestrare documentazione attestante alla contabilità relativa all'attività usuraria e all'entità del danno economico subito dai denunciati.